È un'importante occasione per rimettere al centro il tema della meccanizzazione connesso ovviamente a uno sviluppo agricolo che per la nostra legione diventa determinante. Abbiamo l'ambizione di attrarre da tutto il Mediterraneo e gran parte dell'Europa soggetti interessati quindi far diventare in quel momento Bari il crocevia delle opportunità da un punto di vista di innovazione tecnologica ma anche un luogo dove sviluppare un dibattito culturale in tema di innovazione sostenibile e compatibile che ci possa consentire anche di affinare un po' le nostre strategie. Contestualmente all'epoca della fiera, quindi a ottobre, sicuramente saremo in uno stato molto avanzato di utilizzazione del PSR che già da oggi comunque inizia a muovere i primi determinanti passi essendo elemento essenziale per gli investimenti in agricoltura.